Guardate come si può prendere una penalità 18.2 pur non essendo ingaggiati nel momento in cui si è entrati nelle due lunghezze. La manovra di Corsica 1 che all'interno delle due lunghezze passa alla posizione di pru al vento fa decadere l'applicazione della regola 18.2c. Quindi nel momento in cui Vito si ingaggia interno assume diritto di lotta in virtù della regola 18.2a e Corsica deve lasciare gli spazi per fare la boa. Grazie a tutti.